eccoci buongiorno a tutti benvenuti o bentornati nella nostra live del giovedì mattina eccoci contemporaneamente siamo live anche su instagram per la prima volta abbiamo fatto questo piccolo esperimento oggi la puntata di oggi sarà molto interessante perché parleremo di cartomanzia parleremo di effetto forer di cold reading di come le persone arrivano a leggere a leggere il vostro futuro e in certi casi ci riescono pure cioè non è che riescono a leggere il futuro ma in certi casi sono talmente abili ad utilizzare un certo tipo di comunicazione che vi danno l'impressione di leggervi nella mente lo so che questa cosa potrà sembrare assurda potrà sembrare paranormale ma non è paranormale funzioniamo esattamente così il nostro cervello è una macchina previsionale l'abbiamo visto 750 milioni di volte e dunque che cosa fa continua a cercare di creare previsioni come fa queste previsioni basandosi sul riconoscimento di pattern cioè di cose che vede ripetutamente in un certo modo vedo che ripetutamente ti tocchi qua quando io parlo di tuo cugino e allora posso immaginare che c'è qualcosa con tuo cugino anche se non è assolutamente vero ok anche questa cosa qui del non verbale che mi tocco ok non è assolutamente vero o perlomeno potrebbe non essere vero per la maggior parte dei casi ecco quando noi iniziamo a riconoscere determinati pattern a riconoscerli nelle altre persone e ad avere ragione su questi pattern potremmo iniziare a credere di avere la capacità di indovinare il futuro questa faccenda qui non l'ho inventata io ci sono un sacco di testimonianze di personaggi del tutto in buona fede che hanno raccontato che nella loro vita per sbarcare il lunario da giovani avevano aperto lavoravano per dei cartomanti pur non credendo a ciò che stavano facendo tuttavia a furia di cercare di indovinare a furia di cercare di capire le persone che avevano davanti diventavano via via sempre più brave ad indovinare questi pattern e questa faccenda fa sì che un po per varie e eventuali euristiche della nostra mente un po per come siamo fatti per come fatto il nostro pensiero iniziare a credere di avere davvero la capacità di leggere le altre persone è molto più facile di quanto possa sembrare e ve lo posso assicurare io per primo ho insegnato fatto corsi dove si imparava a leggere il linguaggio non verbale delle altre persone e vi posso assicurare che in un qualche modo tutti quanti uscivano dai nostri corsi convinti di essere molto più bravi a leggere le altre persone in parte era vero perché insegnavamo delle cose sensate ma in gran parte non era proprio vero in che senso in gran parte diciamo che noi abbiamo abbiamo siamo molto bravi a mettere da parte a mettere via le volte in cui non ci becchiamo e a ricordarci le volte in cui ci becchiamo cosa vuol dire che se io ti chiedo di indovinare la personalità di un individuo a caso come se fossi un mago di dieci persone e su queste dieci persone ci becchi tre volte sulle altre sette non ci becchi ok e non è un esperimento se passa un mese quando ti chiedo quante volte c'è beccato è facile che tu mi dica che c'è beccato sei volte su dieci e questo non è colpa tua è colpa di come fatto il nostro cervello che tiene a mente gli eventi positivi e scarta quelli negativi mentre invece quando vediamo le notizie fa esattamente il contrario tiene a mente gli eventi negativi e scarta quelli positivi e questo meccanismo che è conosciuto riconosciuto in realtà ci fa credere di avere una qualche diciamo aver sviluppato una qualche capacità magica con questo io non voglio assolutamente dire non posso ovviamente non posso non sono qui non posso dirvi che non esistano poteri paranormali capacità divinatorie cose del genere di certo non ne abbiamo assolutamente alcuna prova ma affidarci ai cartomanti è diventata una cosa sociale e ve lo posso assicurare personalmente non avete idea di quanti pazienti mi abbiano detto guardi dottore io questa settimana non ho molti soldi perché sono stata dalla cartomante e quindi non lo so facciamo ci vediamo la settimana dopo se sei uno psicologo lo sai succede questo guardi dottore lo so che la cartomante non mi aiuta però ci sono andata anche questa settimana 250 euro vedi il problema non è se vuoi andare dal cartomante per sapere se il tizio di cui ti sei innamorata ti ama il problema non è se vai dal cartomante perché non stai bene con la salute hai un problema grave e magari vuoi essere rincuorato rincuorata sul tuo futuro in questo modo qua il problema è quando questi individui si sostituiscono allo psicologo all'oncologo al medico al fisioterapista o qualsiasi altra figura professionale che abbia alle spalle anni di ricerca se tu mi stai dicendo che anche la cartomanzia queste cose qua hanno anni di ricerca ti sbagli quel tipo di ricerca non è la ricerca che intendiamo noi è un altro tipo di ricerca è una ricerca che funziona per verifica e non per confutazione è una ricerca che diremo tecnicamente non scientifica cosa vuol dire per verifica vuol dire che tutte le volte che ci becco dico vedi che ci ho beccato e quando non ci becco dico vabbè questo è frutto del caso la scienza funziona al contrario la scienza funziona nel modo opposto la scienza funziona nel modo opposto ripeto questo vuol dire che non esistano forze che noi non riusciamo a riconoscere ancora questo io non lo so ok quello che so è che queste proto tecniche divinatorie entrano tra virgolette all'interno dell'ambito professionale di mia competenza e di competenza di molte persone che magari mi guardano in questo momento e creano dei disastri dei piccoli disastri tra le persone quindi oggi vedremo come funziona questo tipo di comunicazione e ripeterò anche all'interno del video youtube che ovviamente non sono qui a cercare di smontare chissà quale credenza popolare ma sto cercando invece di mostrare che in realtà il nostro cervello è molto più incline a credere a queste cose che non a pensare in modo scientifico il nostro cervello è migliaia di volte più incline a credere nella magia nella divinazione nelle carte nell'oroscopo che non nella neuroscienza nella biologia nella psicologia e incline in questo modo adora molto di più le storie che richiamano la magia e il paranormale rispetto invece all'analisi fredda di dati alle confutazioni e facciamo fatti così siamo meravigliosamente fatti di arte e non di scienza potremmo dire però è la scienza che in un qualche modo ci dà differenti vantaggi ed è per questo che dobbiamo discuterne troppo vero vorrei funzionasse così anche per eventi di vita che per una terapia efficace occorre risalire alla causa hai perché spiegare quaresima scrive una roba molto interessante voglio rispondere mentre preparo mentre preparo youtube tanto adesso mentre preparo youtube rispondo a quaresima che scrive tanto vi ricordo che tra un attimo andiamo live su youtube abbandono instagram e andiamo dall'altra parte dal nemico quello che chiamo canale rosso perché al mark non gli piace tantissimo quindi sente chi sento sento che studia psicologia continua a ripetere il dogma che per una terapia efficace occorra risalire alle cause al perché spiegare e capire la nostra sofferenza come smontare tale dogma scrive quaresima quaresima la cosa è complessa da spiegare adesso in tre minuti perché ho tre minuti se vuoi ti rispondo su youtube tra poco ma posso darti una piccola indicazione fin da subito puoi spiegare che certi eventi possono essere cambiati non tanto dal passato ma dal futuro o meglio che il passato può essere deciso dal futuro guardatemi il passato può essere cambiato dal futuro sei scemo no aspetta aspetta hai mai visto fight club il film fight club hai mai visto un film come il sesto senso non voglio rovinare i film a nessuno ma questi due film hanno una caratteristica hanno quello che gli sceneggiatori chiamano plot twist a un certo punto avviene un evento che cambia tutta la narrazione ti fa dire ma che cazzo di film ho visto fino adesso e cambia tutta la narrazione a ritroso facciamo un esempio un esempio semplicissimo lo faccio molto velocemente immagina questa scena ci sono un anziano signore e una giovane ragazza che sono sul treno sono uno di fronte all'altro davanti c'è un pacchetto di biscotti questa ragazza è lì che lo sta maneggiando ok lo apre inizia a mangiare un biscotto l'anziano signore allunga la mano prende il biscotto e lo mangia la ragazza lo guarda e pensa vabbè è un anziano signore condividiamo i biscotti con lui e il signore continua a mangiare questi biscotti indisturbato quando a un certo punto arriva l'ultimo biscotto il vecchio prende il biscotto lo divide in due ne dà un pezzo alla ragazza e un pezzo se lo mangia lui la ragazza pensa beh grazie al ca dato che i biscotti li ho aperti io vabbè la ragazza cosa fa arriva alla sua fermata esce saluta l'anziano signore con un po' di amaro in bocca esce fuori dal treno mette la mano in borsa per cercare il cellulare e scopre di avere i biscotti in altre parole quei biscotti che stavano mangiando non erano della ragazza ma erano dell'anziano signore tu mi direi ma cosa c'entra questa cosa? c'entra un evento che accade nel futuro cambia il significato del passato un evento che accade nel futuro la scoperta che quei biscotti non sono i miei ma erano i suoi cambia la mia interpretazione del passato e tu mi dirai beh ma è questo che devono fare? no, non c'è bisogno di andare a risalire ad una causa eziologica in certi contesti in certi contesti allora questa faccenda qui in realtà a quaresima ne abbiamo parlato c'è una puntata del podcast di Psy nel dopo te la metto da qualche parte guarda che ui sei bloccato intanto buongiorno a tutti vedo che c'è a me incuriosisce il mondo dei tarocchi e quindi mi piace capirne ascoltare ovviamente parlo di video youtube gratis no no ma ci sta infatti parleremo anche di questo è una tattica che hanno perché ormai l'80% di noi hanno tutti gli stessi problemi comunque è meglio se inizi la live qui perché da spreaker mi perdo sempre l'inizio ottimo Barbara questa è un'ottima cosa false memorie alcune alcune psicanalisi furono processate per questo non lo siano assolutamente quaresima assolutamente false memorie a manetta a manetta la loftus dovrebbe essere insegnata come è successo a me a Padova al primo anno al primo anno allora allora direi che facciamo così apriamo qua facciamo insieme tutto il processo apriamo la mia super telecamera che è qua di fronte a voi ok vedo mi sto guardando la telecamera ma ragazzi fa un caldo che oggi mi sciolgo ve lo dico oggi c'è lo scioglimento del dottor Magnoli di fronte a voi in questo modo ok qua ci siamo andiamo su youtube detto vi ricordo che siamo anche sul podcast di psine allora allora andiamo su qua trasmetti dal vivo che mastruzzi che bisogna fare gestisci non voglio trasmettere dal vivo caro youtube in realtà io voglio recuperare ok questa live che ho settato predefinito il microfono no il microfono deve essere la mia roadcaster roadcaster ok allora io direi ok è un po' buio è un po' buio si vede che qua prende meglio allora ragazzi ragazze ci vediamo su youtube trovate il link in descrizione nella biografia c'è scritto youtube oppure andate su youtube scrivete gennaro romagnoli ho due canali ma insomma lo vedete quello dove sono live il primo canale ha qualche migliaio di follower il secondo canale ha più di 40.000 follower quindi è il secondo canale ci vediamo su youtube tra un secondo ciao eccoci ci sono ci sono in diretta eccoci buongiorno a tutti buongiorno a tutte benvenuti nella nostra live che oggi è iniziata in modo un po' particolare è iniziata un po' a bomba direttamente su instagram è iniziata su instagram perché ragazzi lo so le spreaker e diciamo così le condizioni di partenza di spreaker stanno cambiando decisamente quindi ho deciso di partire da quella parte lì come al solito come al solito per potervi leggere dovrò fare una cosa un po' strana cioè dovrò quindi andare su youtube da qua e guardarvi da qua devo anche abbassare il volume altrimenti mi sento 5 volte c'è meno luce oggi vero? sono io che ho le allucinazioni che c'è meno luce proviamo ad alzarla da qua forse un po' scarico ah ho capito sono stupido non sto regolando la luce ok allora allora andiamo qua su youtube e andiamo a vedere in live chi c'è questa mattina buongiorno a tutti buongiorno ciao Giulio ciao manca la psicomagia di Jodorowsky guarda che la psicomagia di Jodorowsky ci sta alla grande io qua ho i libri di Jodorowsky ho anche il suo libro per leggere i tarocchi quindi allora mi avete chiesto di parlare della cartomanzia che è una tematica davvero molto difficile io ci proverò in un qualche modo perché la tematica è complessa dato che si fonde con una dinamica molto particolare della mente umana intanto io più luce più luce calda grazie Valentina buongiorno buongiorno Gianna spesso per spiegare che non siamo i nostri pensieri usi questa espressione siamo lo spazio indefinito dove sorgono quei pensieri che cos'è questo spazio indefinito chi siamo siamo un processo David e questo è il punto se questa affermazione funziona solo rispondo un secondo a David perché è importantissimo questa affermazione funziona solo se mediti se non pratichi la meditazione quell'affermazione ti sembra una frase da bacio perugina la meditazione fa giungere la maggior parte delle persone ad una conclusione un po' particolare al fatto che non puoi definirti perché sei un cavolo di processo cosa vuol dire non sei un essere fermo che può essere fotografato sei un fiume in piena puoi solo definirti attraverso delle parole che cristallizzino dei processi i tuoi pensieri quando tu quando tu pratichi la meditazione ti accorgi che non sei quel flusso di identificazioni dirlo a parole è una roba provare la meditazione sperimentarlo è tutt'altro è come se io adesso ti stessi dicendo hai presente quella sensazione di galleggiare ma tu non ti fossi mai buttato nell'acqua e non sapessi nuotare è ovvio che se io ti dico la sensazione di galleggiare puoi immaginarla ma se non ti sei mai tuffato in acqua non sai cosa vuol dire la pratica della meditazione ti fa toccare con mano che non sai i tuoi pensieri che tra l'altro questi pensieri nella quotidianità spesso ti guidano come una toma e delle volte puoi tranquillamente non seguire questo mondo interiore che molte volte non deriva da una tua potremmo dire deliberata cogitazione cioè sei tu che dici ok penso questo e faccio quest'altro ma deriva da un insieme di associazioni mentali che ci precedono legate all'ambiente alle situazioni priming al nostro stato psicofisico che ci precede eccetera 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 tutto questo in modo forse un po' forte puoi leggerlo all'interno di questo libro che si chiama determinati dove non si parla di meditazione ma comunque ha degli aspetti simili come vedete mi ci sto appassionando sono a metà una bella bomba di libro prima o poi ve ne parlerò esatto qua mi state già anticipando Alice mi sta già anticipando con la tarologia di Jodorowsky dove nuovamente dovremmo stare nuovamente un po' accorti allora partiamo dal principio partiamo dal principio dicendo che non c'è niente di male se una persona vuole affidarsi ad una qualche pratica potremmo chiamarla esoterica magica metafisica non c'è niente di male a meno che questa pratica non sostituisca una vera professione e come puoi immaginare serenamente la professione più sostituita da chi si occupa di tarocchi di oroscopi e cose del genere è la mia professione tu dirai beh ma siete stati voi a rubare la professione a questi signori avete perfettamente ragione ma così come un tempo c'era l'alchimista che poi è diventato un chimico e poi magari dal chimico si è espanso poi alla scienza della biologia e avanti così allo stesso modo allo stesso modo chi studiava l'animo umano attraverso concetti archetipici attraverso concetti teologici lo ha fatto proprio per indagare l'animo umano cioè non è che l'ha fatto dicendo voglio rubare i soldi alle persone cioè chi si è inventato i tarocchi chi ha creato l'oroscopo chi ha creato cose come l'enneagramma di cui ho discusso ieri con just mic tramite messaggini ecco chi ha inventato queste cose non l'ha fatto con lo scopo di fregare il prossimo ma l'ha fatto davvero con lo scopo di dire sai che secondo me le persone potrebbero essere categorizzate in questo modo sai che secondo me le persone hanno tutte delle caratteristiche comuni che potremmo in un qualche modo prevedere ecco l'hanno fatto con questo intento non con l'intento di fregare poi però c'è un effetto particolare psicologico che accade a queste persone ed è di questo che oggi ti voglio parlare in realtà ne abbiamo già parlato in una puntata di psine non ricordo il numero eccetera ma ecco il problema è che come dicono tutte le persone che hanno fatto i tarocchi o perché ci credevano o per motivi di soldi o per esperimenti personali le hanno scritto sui tarocchi come ad esempio è stato Jodorowsky buongiorno papà saluto mio papà salutiamo mio papà oppure ecco tutte queste persone ci raccontano una cosa ci dicono guarda dopo un po' di tempo che tu fai i tarocchi alle persone oppure immagini di divinare la loro personalità oppure fai quella che si chiama cold reading la lettura a freddo cioè il fingere di avere dei poteri paranormali che riescono a leggere la mente dell'altra persona dopo un po' di tempo che tu fai questa operazione inizi a crederci inizi a crederci cioè cosa vuol dire che dopo un po' di tempo inizi a crederci perché il nostro cervello è fatto così tiene a mente gli eventi positivi cioè su 100 volte c'è beccato 20 ecco quei 20 diventano improvvisamente 60 se non li conti ma non è perché tu sei disonesta o disonesto è perché il nostro cervello funziona così ne abbiamo già parlato le credenze che non mettiamo in discussione si rafforzano c'è un esperimento molto affascinante che è quello della chiave che si piega ve lo ripeto per l'ennesima volta perché è importante immaginate di partecipare ad un esperimento fatto in questo modo c'è un prestigiatore che prende un oggetto immaginiamo questa penna e con un trucco di magia la piega ok con un trucco di magia con un trucco di illusionismo la piega la piega ok la piega e poi la butta su un tavolo di fronte a una decina di persone e urla guarda continua a piegarsi ok ovviamente non è vero la chiave non continua a piegarsi è un effetto suggestivo che cosa vuole fare lo sperimentatore vuole vedere quante persone si faranno suggestionare da questa affermazione guarda continua a piegarsi ebbene non tutti ma una buona percentuale mettiamo un 30% si lascia suggestionare a questo 30% che in realtà è più alto è quasi 50% viene chiesto alle persone di valutare da 0 a 10 quanto secondo loro si stesse piegando quella chiave ok ecco ognuno dà un proprio numeretto secondo me si stava piegando 2 3 4 5 poi tutti i partecipanti vengono ricontattati dopo 6 mesi dopo 6 mesi si ricorda ha partecipato a quell'esperimento dove la chiave continuava a piegarsi ora le chiedo dal suo ricordo quanto si piegava questa chiave e tutti rispondono di più rispetto a quel giorno cioè tutti dicono se avevano detto che si piegava da 0 a 10 4 iniziano a dire 6 chi ha detto 6 inizia a dire 7 8 chi ha detto 8 dice sicuro si piegava quella chiave cioè le convinzioni che non vengono confutate intenzionalmente tendono ad auto perpetuarsi e diventano più forti si auto rinforzano capite qual è la pericolosità di me che sono un cartomante che ti divino la tua vita tra virgolette ti do una convinzione questa convinzione non è innocua capite è una convinzione che inizia a lavorare dentro di te e potrebbe fare bene o potrebbe fare male e tu mi dirai e beh allora se uno mi da solo convinzioni positive allora posso fare a meno di andare dallo psicoterapeuta no non funziona così purtroppo non funziona così purtroppo cioè questo tipo di suggestione non ci cambia a meno che non ci induca a quella che noi chiamiamo esperienza emozionale correttiva e questa esperienza emozionale correttiva te la faccio fare solo se capisco qual è il meccanismo in cui si è inceppato il tutto quella che viene chiamata o potrebbe essere il trauma oppure la tentata soluzione disfunzionale il conflitto interiore se non ho contezza di questa cosa per la quale mi serve del tempo devo discutere con la persona davanti a me eccetera eccetera potrei creare delle esperienze emozionali correttive che correggono qualcosa che non dovrebbe essere corretto come ad esempio la fiducia personale eccetera l'ho visto accadere tantissime volte nella mia vita mettiamo una persona che viene da me perché ha sfiducia nelle sue capacità di comunicazione e quindi viene da me per migliorare la propria comunicazione in azienda questo era un manager ok questo manager era molto bravo anche a comunicare c'aveva questo pallino per i cartomanti e per queste cose qua un giorno la cartomante inizia a dirgli che lui è bravo quando sta sul palco perché c'è una specie di carisma perché c'è una specie di potere tra virgolette questa cosa certamente può aiutarlo ok perché ti dà fiducia ti dà quella fiducia necessaria per salire sul palco da un lato ma dall'altro lato questo signore non voleva tra virgolette ammettere che quando parlava in pubblico faceva degli errori giganti mi aveva portato i video dei suoi speech e voleva che io gli dessi delle dritte ma nel momento in cui io gli davo le dritte lui mi diceva sì ma se la cartomante mi dice che io sono portato perché sono magico è inutile che tu mi dica che devo muovermi di più quando sono sul palco tanto sono magico e questo è un esempio non clinico perché negli esempi clinici vi faccio piangere e mi verrebbe voglia di far piangere anche i santi quando ripenso agli esempi clinici cioè di persone a cui tra virgolette è stato detto ma è inutile che tu vai dallo psicologo è inutile che tu vai dal medico tanto è già tutto scritto qua ok questi sono dei criminali e dobbiamo stare attenti sono profezie che si autoavverano allora voi sapete che esiste una cosa che si chiama effetto Barnum o effetto Forer tipico questo psicologo Forer negli anni 50 prende dei test di personalità e li consegna ad un'aula di 300 alunni sto inventando i numeri ok non me li ricordo e a un certo punto chiede a tutti quanti di dare una valutazione sull'efficacia di questa descrizione di personalità e su una scala che va da 0 a 5 se non sbaglio è stato tipo 4,25 cioè iper significativo significava che tutti quanti si erano riconosciuti tantissimo all'interno di quella descrizione peccato che la descrizione fosse identica per tutti era una descrizione presa proprio da i giornali degli oroscopi e delle cartomanti se volete ve la leggo che faccio ve la leggo vi leggo che cosa vi avrebbe dato il professor Forer volete che ve la legga so che è molto famosa quindi magari non avete intenzione che spiegazione della madonna bellissima grazie ecco le puntate grande Giulio ciao doc secondo te usare le carte per fare storytelling può essere una prospettiva valida assolutamente sì usare le carte per fare storytelling usare giochi come vedete io ho questo per fare storytelling posso farvelo vedere non faccio pubblicità non prendo soldi da story cube io uso queste cose qua per fare storytelling con i miei con i miei allievi dei corsi di comunicazione vedete sono dei dadi con delle sono dei dadi con con delle con delle figurine sopra tu lo tiri non so viene fuori che ne so questo tizio disperato c'è un tizio disperato poi viene fuori il gufo c'è un gufo capite che vi faccio vedere come potrei fare questa cosa immagina di essere un mio immagina di essere un mio un mio cliente io sono un cartomante e viene il tizio disperato che ti ho fatto vedere prima il gufo e la medusa ok e la medusa tu sei il mio cliente sei venuto e mi hai detto che stai che sei disperato perché tua moglie ti sta lasciando e allora io ti dico beh è chiaro è chiaro è evidente non è evidente è evidente dal simbolo che sei disperato spero che non ce la faccio a mettere a fuoco ma ci siamo capiti è evidente dal simbolo sei disperato e era un gufo l'altro perché questa cosa è successa di notte probabilmente è successa nelle ore notturne no no ma guardi che io ho sentito che mia moglie mi tradiva nel giorno però ci pensava la notte probabilmente per questo è venuto fuori il gufo dov'è il gufo sto inventando eh ragazzi non prendete seriamente ciò che sto dicendo in questo momento dove cazzo è il gufo eccolo qua per questo è venuto fuori il gufo il gufo è il segno della notte significa che sua moglie ci pensava la notte poi lanciamo un dado a caso è venuto fuori questo corno è venuto fuori un corno è venuto fuori il corno il corno capisce cioè più chiaro di così è disperato è disperato come dice il tarocco della disperazione è venuto fuori il gufo che dice che la notte è successo nella notte e ovviamente il corno cosa vuol dire il corno a lei l'interpretazione ecco io potrei fare questa cosa in cento milioni di volte e sembrarvi assolutamente convincente e non è perché so davvero divinare ma perché so utilizzare un linguaggio che si chiama abilmente vago come fanno i politici un linguaggio all'interno del quale io riesco a includere tutto il contrario di tutto e utilizzare anche delle false dicotomie che sembrano phishing tipo ah ok quindi sua moglie l'ha tradita in quel momento lì giusto di giorno diceva e l'altra persona dice sì qualche volta anche di notte e quindi anche di notte cioè se io faccio una domanda che non sembra una domanda ma sembra un'affermazione ma un po' sembra una domanda tu non riesci a capire se io ti sto chiedendo o ti sto affermando e in base alla tua risposta non verbale o verbale posso decidere se sto chiedendo o se sto affermando magia lo fanno tutti i maghi lo fanno i venditori e poi alla fine quando ti dico bene allora signora lei mi ha detto che oppure lei signore mi ha detto che sua moglie che è disperato che questa cosa è accaduta di giorno ma forse anche un po' di notte e che c'entra qualcosa un corno la persona dice sì è vero quando se ne andrà via dal mio studiolo di cartomante questa mia parafrasi si chiama così tecnicamente cioè il raccontare nuovamente quello che è successo che in realtà mi ha detto la persona davanti a me farà sembrare che io abbia indovinato tutte queste cose provaci funziona per davvero farà sembrare alle persone che io abbia dei poteri abbia indovinato queste cose se non mi credete dovete chiedere a mia moglie che adesso è fuori ma quando torna quando ho conosciuto mia moglie per prima cosa scherzosamente eravamo in un bar di sera tipo a mezzanotte l'ho conosciuta e lei mi ha chiesto che lavoro fai io gli ho detto faccio il mago e lei mi ha detto non è vero e io gli ho detto certo che è vero ho detto ad esempio tu hai dei fratelli e lei mi ha detto lei ha fatto così io ho detto sì e secondo me ne hai e lei mi fa due io ho due hai i due fratelli bene secondo me hai i due fratelli il ricordo che a mia moglie è che quel giorno io ho indovinato che lei ha due fratelli ma non è vero me l'ha detto lei si chiama cold reading esistono addirittura delle modalità per allenarsi a farlo ok ecco cosa succede che questa cold reading non è solo una tecnica è anche una modalità normale con la quale noi comunichiamo quando non vogliamo fare incazzare il prossimo quando vogliamo accondiscendere al prossimo hai detto qualcosa ti ho sentito hai detto quella cosa lì no 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 non ho detto quella cosa lì e in un qualche modo utilizziamo adesso ho fatto un esempio un po' molto diretto per come delle volte noi utilizziamo una comunicazione abilmente vaga per dire e non dire affinché e facendo in modo che la persona di fronte a noi ci dica ed interpreti al posto nostro il resto della magia lo farà la memoria cioè il fatto che la persona quando cercherà di ricordare che cosa è accaduto anche nel frattempo anche in quel contesto non a distanza di sei mesi come è successo nell'esperimento della chiave tenderà a ricordare ad avere una memoria un po' diversa e per questo che i maghi tipo gli illusionisti prima di fare un gioco fanno delle affermazioni del tipo oppure a metà gioco prima di far vedere la magia dicono io e lei non ci siamo mai visti io e lei non abbiamo mai parlato prima io non le ho mai suggerito nulla non è vero quando fanno così se tu andassi a ritroso nel video scopriresti che in realtà gli ha suggerito un sacco di cose quel messaggio lì non serve per il tizio serve per il pubblico e il pubblico io non gli ho suggerito niente in realtà gli ho suggerito tutto io solo che tu non te lo ricordi perché nel trucco nell'illusione ho inserito talmente tanti elementi in grado di distrarti da questa cosa chi conosce la prestidigitazione sa che funziona in questo modo in grado di distrarti e in grado tra virgolette di ok quindi non so faccio così stacchiamo il dito lo rimettiamo così così e così cioè sono cavolate tra virgolette che possiamo mettere tutti quanti insieme e sappiate che vi sto dicendo solo il 2% ah per mettere a fuoco i dadi metti l'altra mano dietro grazie tir l'ho capito adesso buongiorno dottore la prima live poi se posso vorrei fare due domande in una vediamo un po' Emanuele allora abbiamo tempo ragazzi se volete potete fare delle domande tecniche di seduzioni efficaci chiede Maria Teresa sono entrato da poco cosa sta succedendo con i dadi ho speso milioni ma non mi hanno mai aiutato è vero è così sembra una manipolazione sulle percezioni scrive Agostini assolutamente è una manipolazione sulle percezioni questo vuol dire che cioè quindi cosa posso dirvi che voi potete prendere un qualsiasi testo prendiamo l'effetto Barnum vi faccio leggere vi leggo anzi vi leggo questa descrizione di personalità che è quella che ha che ha fatto sì che la maggior parte delle persone dicessero sì è vero io sono fatto così quindi immagina dove immagina di ricevere questa interpretazione sulla tua personalità ok immagina che io ti legga nel pensiero e questa è l'interpretazione che ne trago hai molto bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino eppure hai una tendenza a essere critico o critica nei confronti di te stesso o di te stessa faccio io la trasformazione maschile femminile pur avendo alcune debolezze nel carattere sei generalmente in grado di porvi rimedio hai molte capacità inutilizzate che non hai volto a tuo vantaggio disciplinata o disciplinato e controllata o controllato all'esterno tendi a essere preoccupata o preoccupato insicuro dentro di te vabbè smetto di fare maschile e femminile altrimenti si capisce lo ripeto disciplinato e controllato all'esterno tendi ad essere preoccupato insicuro dentro di te a volte dubiti seriamente di aver preso la giusta decisione o di aver fatto la cosa giusta preferisci una certa dose di cambiamento e varietà e ti senti insoddisfatto se obbligato a restrizioni e limitazioni ti vanti di essere indipendente nelle tue idee e di non accettare le opinioni degli altri senza una prova che ti soddisfi ma hai scoperto che è imprudente essere troppo sinceri nel rivelarsi agli altri a volte sei estroverso affabile socievole mentre altre volte sei introverso diffidente riservato alcune delle tue aspirazioni tendono a essere davvero irrealistiche eh quanto ci becca questa descrizione quanto ci becca questa descrizione ah aspetta Maria Teresa ah ho capito Maria Teresa ho capito adesso Maria Teresa hai ragione tecniche di seduzione con mia moglie ah sì Enza dice Enza ragazzi voi siete meravigliosi posso dirvi che io ho il pubblico più bello del mondo siete in 70 mettete mi piace ragazzi mi piace che vedo solo una ventina di mi piace su aiutatemi a far crescere questa cosa cliccate su mi piace droghiamo l'algoritmo come dicono gli americani smash spaccate like allora dov'è Enza scrive una roba fighissima seguite me Enza cosa scrive ma qualcosa del genere può succedere nell'autodialogo quando si cerca di interpretare dei sogni parole dette da qualcuno o fatti che accadono sì a manetta e lo facciamo costantemente lo abbiamo detto molte volte lo abbiamo detto tantissime volte tutte le volte che abbiamo parlato di come Freud ha inventato la psicoanalisi cioè di quell'evento di Freud e dell'ipnosi lo so ragazzi lo ripeto tutte le volte ma è un modo semplice per capire questa cosa in pratica Freud viene invitato da un suo maestro Jean-Martin Charcot ad un ballo di mezzanotte a Capodanno ad un ballo a un veglione di Capodanno Charcot utilizza l'ipnosi Freud è lì per imparare l'ipnosi e Charcot gli dice ti faccio vedere una roba Sigi Smondo vieni ti faccio vedere una roba fighissima la faccio un po' diversa un po' divertente dato che la racconto sempre ok Sigi vieni che ti faccio vedere una roba fighissima adesso prendo uno di questi degenti del mio del mio reparto violando qualsiasi etica professionale lo ipnotizzo e gli dico di fare una roba strana gli dico che a mezzanotte come scocca la mezzanotte lui dovrà prendere un ombrello andare in mezzo alla sala del veglione ed aprirlo Freud lo guarda e dice oh ma Charcot ma sei sicuro tranquillo guarda una figata Freud che è curioso quando scocca la mezzanotte vede questo paziente che prende un ombrello lo apre e va al centro della sala va lì accanto e gli dice oh ma tutto bene e lui dice si si tutto bene perché c'è l'ombrello aperto perché piove e Freud dice no non sta piovendo perché l'ombrello aperto perché mi andava di aprirlo Freud si accorge che questo questa persona continua a cercare delle spiegazioni a un comportamento irrazionale delle spiegazioni cerca di razionalizzare diremmo oggi e si chiede ma non è che la nostra vita psichica è fatta in questo modo siamo vittime di suggestioni postipnotiche che noi poi tendiamo a razionalizzare dandogli il significato che vogliamo e questo significato in realtà non è il vero significato allora dobbiamo fare un'analisi per capire i veri significati e adesso vi faccio un plot twist e oggi abbiamo capito che il problema è invece proprio questo tentativo di significazione cioè molte volte la ricerca del significato è il problema lo so poi magari un giorno parleremo di questa cosa non vorrei fare incazzare troppe persone già faccio incazzare i cartomanti non vorrei fare incazzare chi è alla ricerca di significato però molti molti casini nella nostra testa nascono proprio da questa cosa meravigliosa che ha scritto Enza oggi messo mi piace oggi grazie sere ecco dai ragazzi mettiamo mi piace oddio mi ci trovo troppo dice Maria Teresa eh sì il genere umano eh sì mi ci trovo troppo perché è fatto benissimo cercate effetto forer o effetto barnum troverete su wikipedia questa descrizione che ci ha fatto beccare tantissime persone ora l'interpretazione come vi ho detto io attraverso dei simboli è affascinante perché i simboli ci parlano in un qualche modo i simboli sono archetipi avrebbe detto Jung infatti Jung all'interno del suo piccolo libretto che è là in mezzo che si chiama sincronicità parla anche di simboli astrologici eccetera oppure faccio un esempio l'enneagramma utilizza i peccati capitali cioè tu puoi prendere una persona e fargli una specie di cold reading sui peccati capitali e dirgli secondo me tu secondo me mettiamo vedi una persona un po' in forma e dici beh secondo me ci sono vari peccati nella vita che possono rappresentarti uno potrebbe essere la gola stai attento nota come faccio il cold reading non è che dico secondo me tu mangi tanto è chiaro se vedo una persona bella grossa eh questa può solo che dirmi no non è vero sono gli ormoni e la costituzione ok ma se io dico nella tua personalità potrebbe esserci una qualche tendenza a a volerti riempire eh quanto abilmente vago una tendenza a volerti riempire probabilmente guardi anche tante serie tv non gli sto dicendo mangi tanto ma glielo sto dicendo non so se riesco a farvi afferrare vedere un pochino dare una sbircetina di quanto è facile utilizzare un linguaggio abilmente vago all'interno del quale tu proietti i tuoi desideri le tue aspirazioni e poi in base a ciò che vedo di fronte a me in base alla persona aggiustarlo e alla fine grazie ad un pizzico di memoria che funziona male fare la magia completa quindi se noi togliamo dall'equazione l'effetto memoria l'effetto cold reading l'effetto di verifica che fanno queste persone senza saperlo molte persone se togliamo da questo poi l'effetto archetipico perché si dentro di noi ci sono degli archetipi che risuonano dentro di noi cioè se io ti parlo di luce di leggerezza ti viene in mente qualcosa di bello sì o no luce leggerezza altezza espansione spazio ti viene in mente qualcosa di bello e di libero perché hai delle categorie mentali dalla nascita gli archetipi o le categorie a priori di Kant se io invece ti dico nero pesante brutto giù profondo per terra cosa pensi ho detto brutto non dovevo dirlo ma pensi a qualcosa di brutto perché è archetipico cioè è nella nostra specie che qualcosa che in alto chiaro luminoso è molto più probabilmente positivo rispetto a qualcosa di brutto oscuro brutto di nuovo nascosto oscuro eccetera che poi non è vero i diamanti l'oro il petrolio li troviamo sotto terra tra virgolette no e anche qua dovremmo discutere allora tier x scrive come avere una buona comunicazione con persone che non credono alla scienza per esempio se nella conversazione mi dici che l'oroscopo è reale al 100% come si fa a continuare la conversazione allora questa è un'ottima domanda se chi di voi ha il nostro master in comunicazione efficace lo sa anzi tra poco arriverà a queste tecniche molto potenti ma per dare un'infarinatura diciamo così tier più una persona è ideologicamente schierata verso qualcosa e meno è attaccabile a livello di argomentazione cioè se io ci credo qualsiasi argomentazione per quanto intelligente basata sui dati emotivamente pregnante non attecchierà e tu mi dici allora come faccio beh hai due scelte o semplicemente lasci la credenza a questa persona sapendo che tu non puoi smontarla e dici ci credi io non ci credo amen amici come prima ok oppure se vuoi ma è un lavoraccio ok che è quello che facciamo noi psicologi psicoterapeuti con i nostri pazienti deliranti entri nel delirio ah ok ok quindi tu sei vergine e credi nell'oroscopo facciamo una cosa andiamo a vedere l'oroscopo della vergine oggi ah dice che oggi avresti incontrato l'amore hai incontrato l'amore oggi la persona no non l'ho incontrato ah allora questo oroscopo non è fatto bene prendiamone un altro e vai così e gli leggi davanti i centoroscopi attenzione non è non devi mai dire hai visto testa di cazzo scemo stupido hai visto che non coincide con le tue credenze perché se dici così lui dice ah l'hai fatto per confutare se io sono ideologo qualsiasi confutazione renderà più forte la mia ideologia e invece io semplicemente entro nel tuo delirio ti do ragione e inserisco degli elementi di dubbio sei sicuro? abbiamo letto dieci oroscopi e mi sembra che non so se riesco a spiegare questa faccenda questa è la cosa più difficile quando abbiamo di fronte un ideologo un dogmatico siamo di fronte a qualcosa che assomiglia a un delirio cos'è un delirio? è una convinzione che non possiamo smontare e che anzi più cerchiamo di smontare più si autorinforza ok? sì se stai pensando ai Novax alla terra piatta al complottismo sì molte volte assumono la caratteristica di delirio e i motivi sono tanti perché queste persone devono trovare una qualche identità devono sentirsi speciali eccetera eccetera i motivi sono molti ma il punto di fondo è che più abbiamo davanti un delirio strutturato uno che dice ah io ci credo al 100% all'oroscopo e più noi tentando di confutarlo argomentarlo non succede niente non hai idea di quante volte io abbia spiegato alle persone che gli astronomi quando sentono parlare gli astrologi piangono perché piangono? perché l'astrologia non si fonda sui veri movimenti dei pianeti no facciamo un esempio attuale oh oroscopo andiamo a prendere il mio segno ragazzi vergine io sono vergine il 30 agosto partiamo dal TG Sky TG24 Urano nel segno amico del toro collabora a far sì che vi godiate la giornata di metà estate con particolare intensità e tutta seguendo il filo dei vostri desideri Urano nel segno amico del toro non ha alcuna corrispondenza con l'astronomia un astronomo piange e due sono morti solo perché ho letto questa frase cioè cosa vuol dire che non è vero che Urano è nel segno del toro perché le le previsioni fatte da questo tipo di astrologia sono basate su delle mappe bidimensionali e non tridimensionali di come è fatto l'universo così me l'hanno spiegato poi un astronomo vero può spiegarvelo molto meglio ma è completamente diverso quindi non c'è Urano nel segno della vergine tra virgolette ma è una metafora Genna no per i cazzo di astrologi non è una metafora c'è Urano nel segno della vergine perché perché l'astrologia si basa sull'idea di Keplero ok che di Keplero di prima di Keplero tra virgolette che appunto dato che la luna i pianeti influenzano si influenzano tra di loro tale influenza c'è anche su di te scusami la luna fa salire e scendere le maree e allora avrà un effetto anche su di te se hai fatto di acqua ragionamento fallace non so se riesco a spiegare tutta questa roba qua quindi ecco già da qua momento di luglio in cui la salute psicofisica si presenta buona e vi consente di mostrarvi vivaci e più impatti sono tre giorni con male al collo mi sono anche dovuto fermare per l'allenamento sto piangendo dal dolore grazie capaci di tenere testa a svariate situazioni dalla famiglia all'impegno sociale al mondano gli amici e figli gli interessi culturali al disbrigo delle faccende domestiche una bella leccata di culo che è sempre necessaria la luna inoltre corpo celeste ricettivo dello zodiaco capisci la luna è un corpo celeste ricettivo dello zodiaco lo ha detto l'ha detto Hawkins no? non è vero non ha detto nessuno corrispondente al fiorire creativo delle emozioni capite? e guardate io ve lo faccio così guardando questo video succede che la vostra energia amorosa sprizzerà da tutti i pori perché l'effetto positivo che ha mercurio nella vostra sfera di prospettiva inciderà sul vostro inconscio che vi darà nuove prospettive e cose meravigliose ma state attenti perché durante la giornata di oggi potrebbero capitare delle cose anche non proprio piacevoli ma vedrete che le supererete tutte e domani vi renderete conto che è bene mettere mi piace a questo video perché vi sto spiegando come vi fregano la maggior parte di fattucchieri maghi e astrologi è così proprio mi nemico tutti questi persone nuovamente se tu vuoi studiare i tarocchi perché sono belli i tarocchi sono molto belli come figure architipiche come disegni come storia è una meraviglia fallo ok se tu vuoi giocare a leggerli per i tuoi amici per te stessa per gli altri va bene fallo è bello ma se tu lo fai per aiutare le persone disperate che stanno male al posto di medici psicologi addirittura ti contrapponi a loro con queste cose qua stai rovinando il mondo stai facendo male al mondo e questo non va bene capisci? eh? c'è una bella differenza eh? se in più credi a quelle cose lì sappi che quando morirai ci sarà qualcosa di brutto perché se se credi a quella roba metafisica se usi quelle cose per il male non lo so no? ecco questo è un bel modo per entrare nel delirio delle persone no? tipo noi a me capitò tanti tanti anni fa che una persona eh molto credente mi disse a un certo punto che stava talmente male che aveva pensato di farla finita e passamo il tempo a parlare di che cosa succede alle persone che si uccidono non vanno in paradiso ho usato il suo sistema di credenze per aiutarla avrei potuto dire guarda io non credo a quelle roba lì tutte cazzate non ti uccidere ok? no e invece ho detto che cosa succede quando una persona si uccide secondo la dottrina che segui eh che finisce non lo so nell'inferno ok ah sei bravo Agustina mi hai anticipato lo stavo dicendo ma è più non lo so neanch'io descrivere la vita ti rende un ottimo Paolo Fox ragazzi io sono bravissimo come Paolo Fox e vi spiego perché perché l'ipnosi ericksoniana che è l'ipnosi nella quale io mi sono formato si fonda sulla capacità di creare ragionamenti pseudologici e se vi facessi le supercazzole che faccio o che ho fatto ai miei pazienti per l'ipnosi non ci credereste della creatività che un ipnotista deve raggiungere per poter parlare in questo modo quando lo fai per mestiere ti rendi conto cioè io quando io ascolto un mago e lo sento da mille metri che sta usando queste tecniche anche se lo fai inconsapevolmente perché? perché io lo faccio da vent'anni con i miei pazienti ma lo faccio per aiutarli non per fregarli religione e cartomanzia in modo proprio Matteo hai ragione ma questo è proprio il modo per distruggere la mia fanbase nuovamente io non voglio distruggere le convinzioni delle persone anche perché ripetiamolo la scienza non dice che non esista un qualcosa di magico la scienza dice le cose che riesce a provare nel suo piccolo non parla di cose non metafisiche l'unica cosa che dice la scienza che è un metodo e la scienza è un metodo dice che se tu applichi quel metodo alla maggior parte delle affermazioni metafisiche direi a tutte crollano ok però questo non significa che non esista un mondo invisibile non significa che non esistano cose particolari che non sappiamo ancora e che un giorno scopriremo ecco quindi io voglio sempre restare con la mente aperta ma come diceva Piero Angelo e forse Sagan non così aperta che il cervello mi caschi per terra tra l'altro si è scaricata la luce avete visto che si è scaricata una luce vabbè alziamo il bianco vedete questo sapete questi sono questi sono i miei parenti dall'aldilà che dicono non è vero genna esiste tutto ci devi credere e mi spengono la luce e mi spengono potete anche immaginare io sono nato e cresciuto in una famiglia aspetta se durante una seduta allora ragazzi scusate abbiamo 15 minuti forti credenze ottimo Barbara sono contento secondo me si può far ricorso ad uno yes set ad un double blind e ci divertiamo ad inserire le menti hanno sotto bravissimo Emanuele Emanuele sta usando i termini tecnici che si usano nell'ipnosi nella psicoterapia la veggenza usata con i numeri uguali agli oroscopi assolutamente si la ricerca della significazione argomento scottante può essere inteso anche come tentativo di spiegarsi cose a cui non abbiamo avuto risposte differenti sì assolutamente Maria Teresa è così allora Gianfranco aveva scritto scusatemelo se durante una seduta nel caso in cui lo psicologo dovesse avere una relazione emotiva importante esempio piangere cosa può fare il paziente le è mai capitato la ringrazio sì mi è capitato non tante volte ma mi è capitato di commuovermi di fronte al paziente niente di che semplicemente accogliamo il fatto che lo psicologo è un essere umano diciamo che se piange troppo non va bene cioè se piange cioè se ogni volta gli racconti qualcosa di negativo piange pure lui vuol dire che non ha lavorato troppo bene su se stesso perché in quel momento dovrebbe ottenere una posizione potremmo dire empatica ma disidentificata quindi non proprio così identificata da piangere proprio può capitare è un essere umano a me se capitate giornate di come si dice tecnicamente giornate di cacca sono andato in studio lo stesso e quel giorno quando i miei pazienti piangevano disperatamente di fronte a me mi si velavano gli occhi di certo non scoppiavo a piangere ah si hai ragione e mi devo piangere pure io no c'è sempre ok un aspetto professionale se il vostro terapeuta piange troppo probabilmente deve lavorare su se stesso ma non significa che non attenzione guardatemi non significa che non vi possa aiutare anche se piange tanto ok non significa questo però se voi avete bisogno di una persona che è in grado di regolare le vostre emozioni perché piangete tanto forse andate da uno che non pianga eh diciamo che diciamo in linea di massima non dovrebbe piangere più di tanto ciao andrea ciao fabiana è vero sta cosa della luce è un segno divino esatto Matteo che cacchio proprio in questo momento allora ora direi tra facciamo tre minuti e ci salutiamo luigi ciao genna mi sono da poco laureato in psicologia ma spesso questi temi sono poco affrontati se non si fanno indirizzi specifici ci sono libri per approfondire queste tecniche di comunicazione no lo so luigi che io sono un po' tranchant con questo c'è tecniche di manipolazione di di Matteo Rampin tecniche di manipolazione di Matteo Rampin un ottimo libro usare otarut per intender un incosciente do paziente ok agora misturar psicologia e cartomancia dai now non capisco Fabiana perché io non ok adesso mescolare psicologia e cartomancia e poi non capisco cosa vuol dire e un'oltre avrei capito ho letto l'oroscopo in un intervallo per divertimento a un gruppo di persone premetto non credo agli oroscopi e ho conosciuto mio marito perché è piaciuto il mio timbro di voce vedete ragazzi grazie mille genna domanda off topic posso fare la mia meditazione quotidiana in spiaggia mentre prendo il sole è informale non va bene sì Giulia non va bene è diversa da quella che fai a casa ok quindi falla a casa anche anche nei monasteri dove vai a fare i ritiri i monaci non meditano sulla cima di un monte col sole o col vento ma meditano in una celletta perché perché nella celletta hai meno distrazioni e puoi sentire meglio il tuo respiro bella come stai Francesco grazie Francesco è mitico il nostro avvocato di Roma non posso dire avvocato perché forse non l'avvocato di Roma che mi ha scorazzato in giro per Roma diverse volte in scooter fantastico una delle esperienze più fighe che ci siano ci sono aspetti psicologi interstellari interessanti ma che mi sembrano un po' fantascientifici ah grazie Francesco la brasiliana ha detto che non va bene invece con la psicologia e il cartofonizia sono pienamente d'accordo e infatti se una persona usa le carte nel suo studio può utilizzarle come stimoli ma deve dirtelo cioè il mio collega che psicologo o psicologo psicoterapeuta o medico psicoterapeuta se utilizza le carte o utilizza dei dadi come quelli che sto usando io soprattutto se utilizza delle cose che richiamano la magia come carte sfere di cristallo pendolini anche i pendolini si possono usare per i movimenti ideomotori deve dirvi che quella roba lì non è magia a meno che voi non arriviate dicendo dottore io voglio essere curata con i tarocchi però la questione antropologica della si chiama relatività antropologica a volte fa acqua da tutte le parti vi faccio un esempio e poi vi saluto da tanto tempo si dice che se io ad esempio ho un paziente che è nato e cresciuto in un paesino del Sudafrica dove credono nelle possessioni demoniache mi dice di sentirsi posseduto la cosa migliore che io possa fare è portarlo da uno sciamano del suo villaggio perché questo è all'interno del suo mondo delle sue credenze e questo lo aiuterà molto di più di uno psicoterapeuta occidentale mettiamola così in certi casi in certi casi è vero ma in certi altri casi non è vero se salta un tappo del cervello chiamiamola così se quella persona ha ad esempio non lo so una schizofrenia nata da qualcosa che non funziona nel cervello anche se lo porti nel Sudafrica dal suo sciamano di riferimento lo sciamano certo lo farà sentire meglio dello psicoterapeuta ma non lo curerà semplicemente perché è all'interno del suo solco culturale questa è l'antropologia relativa potremmo chiamarla così questa cosa qui ce la raccontano da anni ma non è proprio vera certamente rispettare le credenze le convinzioni le norme i valori della persona è la prima cosa per riuscire a entrare in un bel rapporto e instaurare una buona relazione terapeutica ma da sola non basta va bene direi che per oggi ho detto tante cose anche l'i-ching è molto interessante certo obbligato a Francesco grande Frankie bene ragazzi ragazze vi ringrazio per avermi guardato fino a questo punto cliccate su mi piace iscrivetevi se avete visto la partenza su Instagram spero vi sia piaciuta e vorrei dirvi anche di che cosa parliamo questa settimana parliamo di flow questa settimana ragazzi parliamo di flow torniamo a parlare di flow della vera chiave per entrare nello stato di flusso mi raccomando i più curiosi leggetevi il post perché nel post ho fatto un delirio dove ho mescolato il flow la meditazione l'ipnosi gli stati modificati di coscienza gli stati ottimali sportivi eccetera eccetera e noi appunto ci vediamo domenica fino a domenica alle 18 con la nostra puntata mettete mi piace fate i bravi ciao a tutti bene cari psinellini che siete ancora in ascolto qui sul podcast come al solito vi ricordo che se siete ancora qua sono due motivi o perché vi piace il podcast e quindi dovete mettere mi piace andare in alto sulla vostra piattaforma di ascolto qui in streaming mettere un bel mi piace oppure se siete rimasti fin qua perché non potevate cambiare canale mi dispiace tanto cancellate questo podcast dalla vostra playlist a parte gli scherzi buona giornata a tutti ci sentiamo domenica alle 18 con la nostra 541esima puntata del podcast di psine